Il coraggio e la generosità con cui i giovani della Nissa, oggi in maglia giallorossa, hanno affrontato i titolati avversari del città di Messina avrebbe meritato addirittura il premio della vittoria finale. Invece, al quinto dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, sono stati gli ospiti a chiudere il conto a proprio favore con un gol di Citro che peraltro i locali hanno contestato, ritenendo il giocatore messinese in posizione regolare al momento del tocco decisivo. I Nisseni sono andati in bandaggio subito in apertura di gara. Dopo 30 secondi, infatti, un tiro di morgillo è stato intercettato da D'Angelo con la mano e l'arbitro ha concesso il calcio di rigore che Bicabadan ha trasformato con freddezza. Gli ospiti hanno pareggiato al nono minuto grazie a un tocco ravvicinato di Saraniti sul cross di Bongiovanni e hanno sfiorato il raddoppio al 41esimo per due volte con il solito Bongiovanni. Nel primo tentativo il tiro dell'attaccante è stato deviato in angolo da Amendola. Sul successivo cross dalla bandierina è stato ancora lui a mandare la palla contro la traversa. In apertura di ripresa la Nissa ha dato consistenza anche alla propria manovra offensiva. Al decimo minuto Bicabadan ha colpito un palo con un bel tiro da fuori aria e a seguire la porta messinese è stata minacciata dalle conclusioni di Bontemba al 14esimo con un ballonetto fuori misura e di Mangiavillano al 21esimo con un insidioso tiro cross dalla sinistra. Clamoroso poi il gol mancato da Morgilla al 23esimo che ha mancato la deviazione vincente sul corner battuto da Iuri Di Marco. Nel finale di gara i peloritani disorientati dalla strenna resistenza degli Seni hanno ripreso ad attaccare impegnando al 37esimo Amendola con un tiro di Bongiovanni e non inquadrando la porta avversaria al 43esimo con un forte tiro di Citro. Al cinquantesimo come detto in città di Messina ha fatto suo il risultato con Citro che ha piazzato la palla con un preciso colpo di testa. Amarezza tra i miseni per il sogno che svaniva, gioia per i peloritani per il successo ormai inaspettato.